ciao a tutti ragazzi eccoci anche oggi questa settimana con l'attesissima ormai puntata dei giochi dell'epic games non so come definirla trovatemi un titolo da dare a questa rubrica allora questa settimana l'epic games ci regala un gioco solo vabbè l'altra settimana ce ne aveva regalati tre quindi ci sta il gioco è torchlight titolo da me sentito nominare ma non ci ho mai giocato l'ho anche scaricato ma ancora non l'ho provato però già qui dalle immagini e anche dalla spiegazione si capisce pienamente di che cosa stiamo parlando è un dungeon crawler tipo di gioco che non è che non mi piace non l'ho proprio mai sperimentato diciamo così non non lo so non mi ha mai attirato anche perché quasi sempre si gioca col punto e clicca del mouse cosa che a me non mi ispira molto giocare cioè il movimento col mouse col cliccare del mouse a me non piace se già si giocasse diciamo con i tasti direzionali comunque con la w sda sarebbe già un gioco differente almeno per quanto mi riguarda questo non lo so però come funziona vi ripeto l'ho scaricato ma ancora non l'ho provato allora si può giocare anche multiplayer sia in line che online quindi diciamo che da un voto in più al gioco che comunque anche graficamente non mi sembra male poi pecca e che il gioco non c'è in italiano ovviamente c'è in inglese giapponese cinese semplificato cinese germe germanico tedesco polacco russo cioè di tutto e di più ma l'italiano però scusate non c'è il francese cosa che mi fa sentire meglio perché non lo so io con i francesi non lo so cose calcistiche probabilmente però non vado d'accordo con i francesi sto scherzando ragazzi c'è qualche francese è giusto una cosa così calcistica e non però comunque non c'è manco il francese ok vabbè è comunque questo è il primo gioco cioè l'unico gioco che ci regalano questa settimana andiamo a vedere diamo un occhio veloce anche ai due prossimi giochi che poi sempre tra virgolette perché qui cambiano poi magari la settimana prossima stiamo ancora aspettando con il barbaro ancora non è uscito ce l'avevano promesso e qui non è ancora uscito magari lo aggiungeranno prossimamente non si sa comunque i giochi della settimana prossima sono questi next up hero e tacoma allora next up hero è tipo torchlight cioè sempre un dungeon crawler però si gioca solo single player a quanto vedo almeno dalle immagini sembra che non ci sia manco la possibilità di giocare con una squadra nel senso anche comandata dal pc si gioca proprio da soli almeno vedendo queste immagini qui però c'è l'italiano la grafica mi piace parecchio è molto cartonisca disegnata a mano qui c'è scritto disegnata a mano avanzano a loro imprese sfrecciando a colpi fendenti esplosioni bunghi e boomerang e vabbè comunque mi sembra caruccio e anche in italiano e ma lo giocherei un pochino questo lo giocherei non lo so perché mi dà una sensazione di leggerezza poi l'altro gioco poi approfondiamo magari meglio la settimana prossima l'altro gioco è tacoma che onestamente anche quello di prima non l'avevo mai sentito nominare però per via anche del genere che vi ho detto non è che mi attira tantissimo tacoma invece è un gioco che praticamente non dovete a meno leggendo e non lo conosco il gioco ho letto un po sotto e in pratica dovrete seguire la storia svelarne i misteri di questa stazione spaziale insomma del suo equipaggio non ci sono scontri non c'è diciamo c'è solo interazione però ha preso tanti bei voti comunque magari può essere un gioco da provare però più che un gioco mi sembra più non lo so una storia interativa che dovrete praticamente svelare la trama di quello che è successo su questa stazione spaziale interagendo non so con l'equipaggio comunque con gli oggetti che troverete dentro la stazione è un gioco gioco un gioco tra virgolette diverso dal solito quindi magari potreste provarlo e vedere un po' com'è e vabbè ragazzi e questo è tutto poi ci aggiorniamo per la settimana prossima sperando che magari aggiunghino qualche gioco che sta morendo qui aggiunghino qualche gioco migliore a questi già citati va bene noi ci fermiamo qui mi raccomando come sempre se vi sono stato utile iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto lasciate un like qui sotto se vi va e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao